Buon suor, buon suor, monsie, monsignorini! Ahah, dimmi pure! Bellissima questa galleria d'arte, wow! In questa galleria d'arte del dottor Laionius ho disegnato opera d'arte chiamata Alex Investitus da Machina. Sì, molto bella questa qui, artistica. A me piace, c'è colgo quasi l'ispirazione. Grazie, grazie signor Alex. Bravo, bravissimo, bravo! Allora, oggi, dovrebbe preoccuparti questa opera d'arte, perché ogni opera che noi disegneremo diverrà in realtà qui su Minecraft. Oh no, quindi mi prenderanno sotto con una macchina? Speriamo di no, sarebbe bruttissimo. Stai lontano da me, intanto. Stai lontano dalle strade, magari. Ok, quindi ogni cosa proprio che noi desideriamo, metti io adesso voglio un'armatura di diamante intera, bella. Ma tutte, tutte, tutte le cose. Tutto, tutto, qualsiasi cosa ne possiamo desiderare. Anche un Laion è più bello e gentile. Ah no, allora. Quello lì non si può trovare, c'è già. Bene, tutto adesso ti becchi questo ballo pazzo. Ha fatto la pirouette, è stato meglio. E secondariamente sono il Laion più figo che esiste sul bigonzo. Sì, sì, il Laion del bigonzo lui è. Allora, mettiamoci uno di lato all'altro così, no? In fila, andiamo. E mettiamo i blocchi uno di fianco all'altro così, però un po' lontani perché c'è due o tre blocchi di distanza. Io mi metto più lontani di te. Ma non così tanto, che sennò dobbiamo arrivare fino in Burundi. Due blocchi di distanza, va bene. Io lo faccio qui. Ok, perfetto, bravo. Ma che sega umana, che sega umana, che sega umana che sei. Guarda, ma in tutto, è in tutto. Sono agitato, va bene. Ok, allora, iniziamo. Quindi la prima volta che disegniamo una fantastica armatura di diamante full armor. È luccicosa però, eh. Ok, sono pronta. Te la faccio vedere bella, perfetta. Abbiamo 90 secondi per disegnare ogni disegno. È pochissimo tempo. Alex, riesci a tenere il tempo tu per... Prendi il timer. Eccomi qua, sono pronto. You very kind, you very kind. Grazie, lo so. Allora, faccio partire? E ma guarda che... No, allora sei un idiota. Complimenti, dovevi già partire da mo'. Dovevo già partire. Bravo. Laion, scusa, ma che succede se per caso l'armatura che disegniamo fa schifo? Eh, speriamo che non faccia schifo anche quella che ti arriva, perché altrimenti è finita. Non ti immagini? No, io mi immagino un cretino che invece di... Chi è? Di fare domande stupide iniziava a prendere il tempo dal momento giusto. E vabbè, adesso ho preso tutto il tempo. Non ti preoccupare. Non mi è capitato un genere di cretino del genere, ma mi è capitato un cretino che invece non è capace di fare le cose. Dai, poverino. Un brutto tipo. E vabbè, ma dai, mancherà pochissimo tempo ormai, non dovete prendere... Ma l'hai preso sto tempo o no? Che ti mancherà? Certo, che l'ho preso. Allora dovresti sapere dire quanto manca e non mancherà. E non mancherà, se ti mancano 90 secondi, metti che ne mancano 30, 40, ecco così. Ma è pochissimo. 45 per essere precisi, siamo a metà. Guarda, ma te l'hanno mai detto in vita tua che fai schifo? Cioè, non lo so. Lo so, lo so, ma non è che me lo dicono spesso, però. No, no. Ma voi mi state concentrando, perché qua ci deve arrivare qualcosa di buono, eh. Guarda, se non te lo dicono tanto spesso, fammi sapere, tu informami che casomai ci penso io. Va bene, Alex? Va bene, dai, dai, non finisci questa bellissima. Oh, come l'amico! Ok, così. Un pochino di arte qua. Un pochino di arte anche qua. Un po' di dettagliucci qua. Così. Mi raccomando, ricordatevi che deve essere inciantata, eh. È inciantata, ragazzi, eh. Lo faccio vedere. Quelli sbilluccichini, diciamo. Secondo me, allora, quando noi premeremo done, se abbiamo fatto un bel disegno, quindi se la nostra arte è stata compresa dal gioco, allora ci arriverà a tutti l'armatura intera di rimante. Vabbè, allora è una cosa epica, dai. Non è che puoi farla bene anche per me, eh? Il tempo è finito. Ok, è finito. Allora premiamo done e vediamo se funziona. Via. Ok. Vediamo un po'. La mia bellina. Oh, funziona. L'elmetto me l'ha dato, almeno quello. Oh, che bello, scarpine. È stupendo. Oh, c'è danno tutto. Eh, no. Ah, sì, è vero, anche la chest plate, ma io me la metto subito. Zuppete zappeto. Ma che bella armatura, è epica. Ma è incantata questa cosa, sì. Ah, bella incantata. È pure massata. Molto bella. Allora, vediamo un po' che cosa avete fatto voi. La mia è bellina, secondo me, venite a vedere, è molto seria. Hai fatto pure le ombre. Molto carina. Sì, hai visto? Quella tua, un po' brutta, però vabbè. È un po' bruttina, eh. Però no che non hai buchi. Eh, 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 quella di Anna è la più bella di tutte, però vabbè. C'è anche il libro, là. Questa fa veramente schifo. È bellissima, vedi? C'hai le ferline bianche. La più brutta di tutte, è complessa. È romino ad essere incantato. Hai chiesto pure i gonfi? Adesso fatevi indietro di due blocchi. E davanti, capito, così, allineatevi anche con me. Piazziamo un altro. È questa volta. Alex, suggeriscimi tu, che cosa lo siamo a fare? Ma che so, vuoi fare una bella spadola potente in diamante? Un'arma ci serve. Ok, allora, pronti? Via! Pronti! E si parte col tempo. Questa è facile, eh, amici. Ancora ci abbiamo tanti secondi, però vi devi sbrigarvi. Questa è una cosa facile per tutti. Sono sicuro che nessuno di voi... Non gufarla, ti prego. Avrà difficoltà. Infatti, per favore, perché qua è facile sbagliare. È troppo facile, basta fare il marrone che non so capace. Allora, perché non stai zitto? Che nessuno vuole sapere i tuoi indizi, eh? I tuoi suggerimenti barlocchi. Ma non è un suggerimento. È brutto barloffo che non sei altro. Non barloccherò mai più adesso. È barloffo schifoso. Barlo... Stai zitto perché tu non ti devi permettere, eh. Come ti permetti? Però non so cosa vuol dire. È molto il barlocco. Ti ha dato del barlozzo, eh? Infatti, cioè... Vergogna, ma non si fanno queste cose a dire barloffo. Ti dispiace, non volevo dirlo. Oh, schifezza che non sei altro. Facciamo un po' così, un po' così. Ecco qua. Un po' così. Wow, la mia è proprio epica, direi. Non ci ho capito una mazza. Ho fatto schifo, ho fatto schifo. Ah, sì, così. Beh. Ma stanno pochi secondi. Siamo a mezzate qua. Di secondi? Wow. No, dici secondi. Ma io, vabbè, dai, andiamo, andiamo. Così, bellissima questa spada. E poi ci faccio anche qualche dettagliuccio in più qui, che secondo me ci sta bene. E io direi tre, e io direi due, e io direi... Avete finito voi? Sì, ho finito. Ok. Allora, done! Vabbè, done! Ce l'abbiamo data! Secondo me, prima o poi, a qualcuno di voi non la darà, perché farà troppo schifo. A me l'ha data! Guarda, sarà sicuramente strecato a non riceverla. Osserviamo le opere, però, dai. Allora, la mia è una spada di diamante seria, assolutamente uguale. Molto seria. Molto classica e molto bella. Ma infatti bisogna fare le cose belle. Cioè, allora, te mi spieghi perché il gioco ti ha dato la spada. Cos'è? Visto che questa non è una spada di diamante. È una spada di diamante! Oh, è molto buona, però. È morto. Non so, mi ha tirato. Non è andato. La mia è buona, vedi? Perché è forte. Porca miseria! Dai, sta cosa è una banana. È una super spada carota! Ma perché non te ne vai? Quella di Anna, come sempre, non delude, però. Questa è sempre bella, è molto lucidosa. No, grazie, grazie. Ascolta, eh... Beh, ah! Fa schifo! Non parlo mai più! Fa schifo, va bene, fa schifo! È mandato via! Ok, prossimo a costruzione. Sempre a due blocchettini vuoti. Ho il terzo così. Alla fine, ok? È una mostra d'arte stupenda. Perfetto. Allora, altro oggetto. Io direi, Alex, se non hai niente contrario, un bell'arco. Dimmi tu, oh, un bell'arco. Un arco ci fa comodo! Ok, allora, tre, due, uno, iniziamo col time per un'arco. E si parte! Ok, l'arco! Devi sparare per forza fricci? Ascolta, devi fare le cose di Minecraft, brutto idiota. Ok, hai ragione, scusami. Oh, mio Dio! Fa schifo il mio, dai! Strecatto e tonto, amici. Com'è possibile? Ma, cattivo! Io sono cattivo, non tu che... Io chiedo sempre perché ho paura di sbagliare. E infatti hai sbagliato prima che hai fatto una banana, hai fatto. Mannaggia a me! Mannaggia a te! No, era una carota quella. Era una banana proprio precisa e le banane non valgono. Brutto car... Bananaro. Ragazzi, è un po' difficilino! Ecco qua. Ma l'arco è complicatissimo, non difficile. Ma non è vero, amici, ma che dite? È impossibile. Guarda che bello l'arco che ho fatto. Io mi sto impegnando di brutto, stavolta andrà bene. Il mio è bello. Ma che il mio me lo darà di brutto, è anche potente. Non avete l'immaginazione, non avete l'immaginazione e quindi quando disegnate non ve lo immaginate in testa. E' il segreto quello. O forse hai ragione. Bisogna immaginarselo. Cioè, io ce l'ho l'immaginazione. Eh, non è vero, sei una... sei arida. Ma che cosa devi immaginare in testa? Aio! Come ti permetti? Eh, devi immaginartelo in testa, come è, capito? Oh, un arco in testa, wow. Devi visualizzarlo proprio. Esatto, devi visualizzarlo nel tuo cervello. Lo sto visualizzando di brutto, ce l'ho, ce l'ho. Ok, e poi arriva, arriva bene. Sta arrivando quest'arco però? Eh, a me sì, a me è arrivato. Io ce l'ho fatta. Ok. A me sta venendo bene. Ok, finito, pronti. Manca poco tempo ormai, dai, siamo pronti, eh. No, un secondo! Ebbè, il mio, è bello, eh. Il mio... Io ho fatto bici! Allora tre, allora due, allora uno, allora done! Fatto! Fatto! Oh, oh! Oh, anche l'arco! Very nice! Arco e sfrecias! Perché io, giustamente, sono stato un bravo. Hai un pezzo stupendo! Eh, quello di strecato fa schifo anche questa volta. Bello! È incredibile, eh. C'è sempre un bucchio. È bello, dillo! È bello! Dai, non è vero, è carino! Va bene, è carino, va bene. Grazie mille! Quello di Anna, bellissimo! Tutto Enchanted! Wow! Questo qua è il più brutto di tutti, eh. Che schifo! Ma c'è la freccia rossa sempre, dai, è bellissima! Ma tu non ti imbarazzi! No, no, è bello, è bello! Ma te te l'ha dato l'arco il gioco, fa vedere! Di me l'ha dato, vedi? Allora riconosce che è un arco, comunque, eh! Eh, è un arco, è brutto, però è un arco. Ah, ho avuto fortuna stavolta! È brutto, eh, secondo me era brutto brutto. Però, va bene, l'importante è che te l'abbia dato. Ok? Eh, abbiamo disegnato uno, due, tre oggetti. Ne dobbiamo disegnare altri tanti, quindi, ragazzi, io direi... Dobbiamo darci una movenza! Cos'altro potrebbe servirci? Alex, te ne dici! Un piccone, direi! Piccone, vai, un bel piccone! Un piccone! Un bel piccone poderone! Mi piace il piccone, ok? Allora, iniziamo subito. Un bel piccone. Questo è difficile, eh? Allora, lo sto già visualizzando, sarà perfetto! Come si fa un piccone? Ebbè, il manico è di legno, e poi la parte bella del piccone, invece... Così? No, il piccone non sono capace. Ok, invece... Qualcuno mi spiega perché gli faccio sempre mosci storti? E' perché è un segno che tu sei anche tu un moscio storto, capito? No! Ebbene sì, ebbene sì. Da volte il piccone è bello, mi dispiace, lo devo dire, e mi dispiace. Ah, ho smerlato! Ah, ecco, così è sì che è molto più bello. E poi, non lasciamoci suadere da queste brutte facce che siete voi. Oh sì, guarda che bello così, perfetto! Lo sapevo che volevi dire il mio nome! Eh, disegniamo invece una cosa bella, perché è giusto essere belli e non brutti come voi. E come deve essere bello? Perché se no, non te lo dai il gioco. Se no, non li litigarello. Ecco qua, così... È vero, c'hai ragione tu. Devo dire che è bello. Però secondo me... Oh, che non va brutto, scusate! Qualche dettaglio è... No, allora, io veramente fa schifo stavolta, cioè... Potevo fare molto di meglio, però vabbè. Wow! E' anche una stellina... Così manca, amici? Così, bellissima. Manca più poco, è 30 secondi, quasi. Manca più poco, non è italiano, io non so che lingua mi parli tu ogni volta. Come non è italiano? Che lingua è? Manca meno, si dice, non più poco. Manca meno, manca meno. Più poco non si dice, sei proprio una bestia. Io metto tanto. Ok, allora, io credo di esserci, non penso di poter fare meglio di così. Ma anch'io, secondo me, è meglio di così, si muore. Allora, possiamo andare allora, perché io ho fatto benissimo. Ok, 3, 2, 1, via! E via! Oh, c'è andato il piccozzo! Yum, yum, un bel piccozzo! Guarda, l'ho ricevuto anch'io! Ma allora, però il fatto che tu stai ricevendo tutti gli item non va assolutamente bene. Ma cioè, ma vedi che schifo fai? Ma hai visto che è carino? Fasca, cos'è quella cosa in alto? Che fa pure la redstone. Ma che schifo, ma... Dai, ho fatto anche la redstone! No, la redstone è comune. No, allora, streccato, se continuo a ricevere tutti gli oggetti come noi altri, io mi sto offendendo con il gioco. Infatti non è giusto! Non è giusto! Non è giusto, tu non dovresti... No, no, stai zitto, no! Se ricevi un altro oggetto, io annullo la sfida perché stai costruendo tutte cose brutte, stai disegnando malissimo. No, ok, ho capito! Oh, eh... Allora, questo è il mio piccone, è molto giusto. Questo qua è una banana... Molto carino! Questa è una melanzana, ma che... Ma è una palma! Un piccone! Ti risulta che il piccone abbia il manico viola, eh? Eh, ma il mio, sì! Non sapevi trovare il marrone. È personalizzato! No, guarda, il mio è un po' viola. La tua madre è viola, guarda. È un cattivo! Questo è bellino, però un po' fantasioso, eh? Ti l'ho fatto un po' schifoso, però vabbè. Vabbè, questo è giusto, eh? Non si può dire niente, Alex, questa volta. Grazie, mi ha avvento il mio bello, sì! Strecato, guarda, mi stai veramente facendo spazientire. Ma la prossima ti stupisco. Ma cosa vuoi stupire? Ma cosa stupisci? Eh, in peggio, sempre in male in peggio. Ma io sento la magia tra le mie mani. Madonna, guarda come si casca ultimamente. Ma perché ci siamo messi a disegnare qua sul pendio? Però sta venendo bene la nostra sequenza di disegni, eh? Prossimo oggetto. La mia è più che altro la più bella, eh? Non lo so, decidi te. Mela d'oro, cosa dite? Sono buone. Ah, le mele d'oro ci servono un botto. Ok, queste se le prende è anche strecato, vi giuro. No, no, va ora. Possiamo partire? Possiamo partire, via. Via, timer, via, via. Bella me l'oro. Quella è inciantata, eh, quindi... Ah, quindi quella bella, bella, potente. A cui con gli effetti devo farla, va bene. Tanto te non la prendi. Tu ci puoi anche rinunciare. Eh sì, guarda. Speraci che non la trovo. Tu non la prendi. Tu non prendi. Vedi che fai schifo, lo sai anche te. No, no, non l'ho detto, eh. Mi hai letto nella mente. Eh, ti ho letto nella mente. Aspetta un po'. Io non vorrei leggere la mente di strecato, eh. È piena di piedi. È difficile, ma ce la posso fare. E se tutti... No, questo è un altro frutto. E se voi non sapete perché la mente di strecato è piena di piedi, venite in live. Perché lì si scopre di brutto. Perché? Eh. È da scoprire perché la mente... Dati gli alcarini e le cose moleste. Alle ore 19, tutte le sere, sul sito Viola, non qui su YouTube. Link in descrizione e in primo commento. Ovviamente è gratis. Venite, non mancate. Allora, io sto facendo. Secondo me sta venendo anche bene, eh, la mia mela loro. Ma l'hai fatta incantata? Naturalmente, non ho bisogno mica di te. Deve essere, mi raccomando, Lions. Non è la fine. Ma infatti, cioè, guarda che è un po' faticoso però fare la cosa che è incantata. E incantarla è un pochino faticoso, eh. Però si riesce, si riesce. Ah, secondo me la mia viene dalla proprio 10 stack minimo. Minimo, eh, dico. Non credo che... Da senti l'immaginazione. Non credo che la quantità sia influenzata, però... La mia è finita, siete pronti? Sì, siamo pronti! Ok, 3, 2, 1 e done! Vai! Ehi, non mi sta arrivando una mazza a me. Perché non arriva? Ah, eccole! Eh, però non è incantata. Mi sa che era l'influenza di... Guarda, mi sa che è l'influenza di stai. A me non è arrivata! Hai fatto una zucca! Un mandarino! Perfozza! Ho fatto anche il sole perché... No, allora, a momento, ho capito perché non c'è arrivata. Uno ha fatto una zucca, un altro ha fatto un'ananas. Cioè, scusami. Non è un'ananas, è una mela! Vabbè, non è un certo. Non vieni a vedere la mia! Oh, la tua è un'ananas. Oh, chiudo, guardi, Anna, che bella! No, non è vero, è bellissima. È un pomodoro! Ma che schifo è! Wow, brilla! Wow, brilla! Questo è un cuore, questo è l'amore che non hai, eh? Questo è un mandarino. No, non è un cuore, non c'è la punta. Questa è una zucca, un mandarino. Meno male che non te l'ha data. Zucca a melone. No, sì, comunque non l'ho presa. Eh, lo so che non l'hai presa. E niente bene per me! Eh, vorrei vedere. Cioè, fa schifo sta roba qui. Ci mancherebbe pure. È strano che l'ho presa io. Adesso cosa dobbiamo fare? Allora, manca... Eh... Beh, il portale del... No. Facciamo prima gli occhi. No, a me ci vuole un totem. No, gli occhi del Lander. Va bene, ci sta. Porca miseria, adesso mi hai fatto rabbiare. No, 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 no. Non vedi un segnale cosa succede, ti prego, non lo fare, non lo fare, non lo fare, non lo fare. Oh no, cos'è? Un PCL. Ti ho fatto la scaletta mio. Grazie, estrema. Molto astratto Lion, eh? Molto astratto. Ok, pronti, questo qui è l'occhio del Lander, quindi. Va bene, siamo fermi io. Ok. Ma come si fa? Io non ce l'ho presente. È viola, verde, verde, blu. È verde... Ok, vai, vai, rapidi Questo qui è difficile pure, secondo me Urca, questo qua Il mio sta diventando volgarotto No, perché? Allora, niente volgarità Il mio è volgarotto Non volendolo fare volgarotto Ma come vuol fare un occhio volgarotto? Cioè non puoi, è impossibile Eh no, ci sono riuscito Non è giusto però Non volevo farlo volgarotto E' venuto volgarotto Ma tu sei volgarotto Ma come ti permetti Questo è più che vero Sei volgarotto di brutto Allora, è un voto difficile, non so cosa sto facendo Però va bene L'occhio di un gatto, praticamente Amici, è più difficile di tutti gli altri Questo non ce lo dà Se non ce lo dà non possiamo andare a fare il drago, è un problema No, dobbiamo farlo, per forza Beh, dai, almeno uno di noi lo farà bene Il mio è fatto bene, Laio, non ti preoccupare Il mio è volgarotto Però Sbattila di dirlo, se no non è vero Sì, infatti, ti prego, non lo dire di continuo Ok Ok, ci siamo, Alex Abbiamo fatto 3, 2, 1 Done Fatto Ok Incredibile Ce l'ha dato Ah, ho sbagliato totalmente Ok, allora, il mio Allora, Danna, ho sicuro che non gliel'ho dato A me l'ha dato, anche se il mio non è proprio perfetto Però, dai, più o meno A me l'ha dato Strecato, perché il tuo è fatto bene questa volta Guarda come è carino Ho visto, mi sono impegnato Ma perché? Guarda, io, ma per me non guardavo Ma a te neanche l'ha dato, Alex Perché, cioè Infatti non me l'ha data, a me non ce l'ho Perché? È una tomba questa Perché? Va bene, abbiamo quelli miei di strecato Siamo a posto comunque Bastano sicuramente Ok, prossimo disegno Stavolta dobbiamo disegnare Il portale frame, cosa vuoi fare? Il portale del land, naturalmente, sì Quindi è difficile Dovevo disegnare il portale per intero? Ok, mi raccomando, almeno uno lo deve fare bene, ok? Oh no C'è un messi male Se funziona, dovremmo andare direttamente al land Parti col timer Vai, parti col timer, vai, vai Vai, hai fatto, via, via Però non mi devi interrompere mentre io sto spiegando Hai ragione, è colpa mia Mi perdono È certo, è che è colpa di tua madre Adesso io le telefono appena finito il video No, no, no Poi finisce male Eh, le spiego perché fai schifo E come ti ha educato male No, Lion, non si fa Non si fa Ma non si fa lei che ti ha educato male Com'è colpa mia adesso che tu sei stato educato male? No, non è colpa tua Assolutamente non ho detto questo Cosa ti dovevo educare io? A caffuddate? Dovevo fare così? No, cosa vai dicendo? A te calmi Ragazzi, per favore Dovevo caffuddarti Come si fa a portare del nether? Dovevo caffuddarti Stai zitto Ti caffuddo Dovevo mi caffuddare, Lion A tua madre appena Oh, fate veloci perché io lo sto facendo benino, eh Tutto sommato Anionica tanto Insomma Benino ma non benissimo, eh Benino ma non benissimo Il mio è bruttino Però è bello, capito? Oddio, mi dispiace, universo Ma qui non possiamo vederli i disegni Perché appena facciamo done Andiamo direttamente al portale Ma non penso Ci darà i frame Ci darà qualche attimo di tempo, dici? Secondo me sì Speriamo Beh, in teoria noi siamo pronti comunque Penso che hai ragione Allora, faccio gli ultimi E se fa Dettagli Ci siamo? Sì Ci siamo? Ok, aspettate un attimo Eh, che schifo, mamma mia Vabbè, dai Io ci sarei Cioè, fa schifo Io ho fatto Ti vedi, eh? È terribile cosa Il mondo mi vuole bene Perché non è vero mai Che questo scapisce Questo non è vero Ma il tuo è veramente bellissimo Il mio è giusto Il mio è giusto Il vostro fa po' schifo Ma che bello Com'hai fatto a farlo così in freddo? Cioè, Alex Tu li hai rubati a strecato Perché o ad Anna Non è vero Tu li hai rubati ad Anna Sicuro Perché quello Ma sarà l'influenza di Anna Che me l'ha dato Cioè, è più decente Ma quello tuo fa po' schifo, eh Vabbè, ok Uno, due, tre Andiamo nel nether Uno, due, tre Uno Sei proprio stupido, eh No No Vabbè, meno male Ok, ok Ok, sono giusti così No, non puoi romperlo Ah, bene Ma davvero? Ok Ma si accenderà ugualmente, eh? Ma penso di sì, dai Magari Devi scavare qua sotto Eh, sicuramente è quello E magari non è che ci vale la lava Ma non penso No, no, la lava no Beh Raga Facciamo l'altro di sé Ho scavato ancora Ho scavato ancora Proviamo a Magari a rimetterlo Può essere che sia giusta, no? Così Eh, bravo, bravo L'ho capitata Ok Ah Interessante Ma sei sicuro che non ci vuole la lava? Eh E se ne rifacciamo uno bene? Eh, disegniamo la lava Vediamo se serve quella Disegniamo la lava? Sì Ma c'è qua la lava, scusami Ma non può essere la lava, scusate Non ha senso È che abbiamo sminchiato gli occhi No, secondo me non va così Eh, anche secondo me Eh, magari sono storti Ma perché questi due sono storti? Erca miseria Allora, aspettate Che hanno un senso, capito? Ma qual è il senso? Non si capisce Verso l'interno È perciò da guardarli Così? Quindi quei tre sono È difficilissimo Eh, ma guarda Dai, fai danno Così? Allora Ok, metti quelli tre lì, Anna Oddio È cascato Aspetta E l'ho finita Oddio Mettili Eh Eh Ok Proviamo un poco Allora Ma ci abbini a noi Allora, io mi metto bene così, no? Così E mo' da qui Ma tua madre mi fa Fa un bagno Perché? Perché non funzioni? Io sono sicuro Che in qualche maniera È colpa di Alex Al cento per cento Non so come Ma è così Per oggi Ce l'avamo preparati Benissimo Anna, vedi Fa la face Face palm Guarda, io non lo so Sono veramente Balliamo tutti, amici Però Eravamo pronti Almeno Eravamo pronti Ad andare nel land A combattere il drago Alex, sei espulso dall'avventura Ciao No Vado nella lava Grazie Ok, noi invece Ci fermiamo Io mi faccio il mio ballo preferito Che è questo Eccolo qui Il ballo russo Anche io voglio ballare come te E noi ci vediamo stasera in live Lion out Ciao